Ben ritrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, apriamo su quelli che sono due convegni particolarmente attesi durante l'anno qui, festeggiano il 25esimo anniversario della struttura polifunzionale che ha significato l'8 dicembre del 1995 la nascita dell'ipica siciliana. Il trotto sarà di scena sabato 5, il galoppe invece con tre corse importanti soprattutto, il criterium dell'Immacolata e lo storico GP Unire e ancora il memorial Francesco Faraci a ricordo di un imprenditore che ha seguito la nascita dell'ipica insieme al dottor Concetto Mazzarella e al figlio Fabio Faraci, oggi i referenti dell'ipica a Siracusa. Sabato 5 invece il trotto scenderà in pista con il premio Città di Siracusa che si sviluppa ormai dal 2000 e ancora una prima edizione del GP d'inverno, abbinato ad una seconda tris, due corse di gruppo 3 che arricchiscono con 50 mila euro ciascuno il monte premi. Tutto purtroppo a porte chiuse visto che comunque ci sono le norme anti-contagio da seguire e visto che comunque il Covid-19 non permette le competizioni sportive aperte al pubblico. Andiamo innanzitutto a restituire per onor di ricordo quelli che sono stati 25 anni di una struttura, ma soprattutto della grande passione raccolta sul territorio e dedicata all'ipica. Scatteranno accompagnate dalla vigorosa passione ipica fortemente sentita sul territorio siciliano le competizioni di trotto e di galoppo confezionate appositamente per festeggiare l'anniversario della nascita dell'imponente struttura dell'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Tempio ormai consolidato di tali discipline, struttura polifunzionale e ricettiva, trovò il suo primo giorno di nascita l'8 dicembre del 1995. Quarta corsa, Gran Premio Unire, su una distanza di 1700 metri, compatto all'avvio il gruppo di testa, ma prende nettamente prima posizione Lord Carmelo, seguito da Landolfi, seguono in gruppo, Mai Safeti, Mister Chicco Parione e a seguire gli altri, di prima curva, affronta in testa sempre Lord Carmelo con una lunghezza di vantaggio rispetto al gruppo, alle sue spalle, Landolfi più all'esterno, Mai Safeti. Lord Carmelo sempre in testa, conduce saldamente, stanno per affrontare adesso il rettilineo d'arrivo, Landolfi in seconda posizione, Mai Safeti, Mister Chicco Parione, Sweet, Mayo Rogers, Buster Banni e Rubattino, si allargano i Purosangui in retta d'arrivo, i Fantini spronano i cavalli, ma è sempre Lord Carmelo saldamente al comando, a seguire in seconda posizione all'esterno Landolfi, ancora allargato Mai Safeti, seguono gli altri, Mister Chicco Parione, Sweet, Mayo Rogers, Buster Banni e Rubattino, rimane in testa allo steccato Lord Carmelo, testa a testa tra Landolfi, Mai Safeti, sembra spuntarla Landolfi per una testa, Lord Carmelo si avvia, vince questa quarta corsa Gran Premio Unire, seguito da Landolfi, Mai Safeti, Mister Chicco Parione, Sweet, Mayo Rogers, Buster Banni e Rubattino, grande conferma quindi per Lord Carmelo. Dall'ora lo spettacolo in pista è realizzato soprattutto da cavalli sempre più qualitativi e team ipici cresciuti e consolidatesi nel tempo. E l'ippodromo del Mediterraneo si è fatto spesso scenario di grandi eventi. Quest'anno le previste competizioni generose nel Monte Premi ospiteranno la qualità di team pronti con i loro atleti appositamente preparati per affrontare e vincere i Gran Premi e i premi più contesi. Il via dietro l'autostarter e dalle gabbie di partenza, però, non vedrà presente il grande pubblico d'occasione, né ci saranno gli eventi e gli spettacoli collaterali. Non risuoneranno neanche gli inni delle nazioni aderenti all'Unione Ippica del Mediterraneo, che chiudevano a Siracusa relativi ai campionati di guidatori e fantini e che lunedì 7 dicembre alle ore 11 si confronteranno online per condividere quanto costruito in questi anni. Un consiglio della WIM per fare il bilancio di un anno segnato dal Covid-19 che ha registrato una sola tappa a Cagnes-sur-Mer in Francia e che attende la nuova programmazione per l'anno 2021 fondata su momenti di intescambio non solo sportivo o agonistico ma anche interculturale. Così come da molti anni ormai i loro incontri hanno e suoni il sapore, il calore i colori degli usi e costumi di ogni nazione. Nel rispetto delle dettate norme anticontagio invece si mostreranno in piste sacrifici e lavoro appassionato svolto in preparazione dei due convegni in programma uno di trotto e uno di galoppo. Si inizia sabato 5 dicembre con sette corse in sulchi che ospiteranno trottatori di grande elevatura impegnati specialmente nelle due corse di gruppo 3 dal monte premi di 50.000 euro circa. Il città di Siracusa schiererà otto soggetti di quattro anni e oltre sul miglio mentre il GP d'inverno impegnerà su stessa distanza i giovani e titolati cavalli di tre anni. Nel pomeriggio di martedì 8 dicembre giornata che festeggia il venticinquesimo anniversario le piste siracusane si faranno scenario di sette corse di galoppo tra cui lo storico GP Unire handicap principale C per tre anni e oltre sui 1.700 metri di pista grande da 20.900 euro. La sua prima edizione fu l'8 dicembre del 1995 vinta da Lord Carmelo. L'anno scorso invece si impose Charming Girl. Richiesto Lord Shekin quindi Charming Girl a largo di tutti c'è Spuarbere siamo ai 400 metri dal traguardo con Domessi Card che cala sul finale quindi ecco c'è il sorpasso di Charming Girl per linee interne Lord Shekin lungo lo steccato Duke Del Rosi siamo ai 150 metri dal traguardo con Charming Girl che è passata in mataggio cerca di allungarsi rilancia la rimonta Lord Shekin e Domessi Card ma è Charming Girl che c'entra il bersaglio nel Gran Premio Unire 2019 attacca e passa Domessi Card si invola sul traguardo 3,88 la quota di Charming Girl che quindi viene a imporsi su Lord Shekin al terzo posto Domessi Card in programma ancora il criterium dell'immacolata handicap principale B da 27.500 euro di Montepremi riservato a cavalli giovanissimi di due anni chiamati al confronto sui 1.500 metri di pista grande si corre dal 2014 l'anno 2019 ha visto la vittoria di Multiple Choice una B-Long U attaccata da Multiple Choice per linee interne da Eurodandy quindi Dreamer Freely lungo lo steccato dall'esterno viaggia molto bene anche Spirit Noir quindi ancora Alice Power siamo ai 250 metri dal traguardo con Multiple Choice attaccata dall'interno da Madigi quindi ancora Spirit Noir a largo di tutti c'è Netoianni si va sulla fase finale con Multiple Choice che respinge respinge Amadigi dopo una bella prestazione alla prima sul tracciato dove perde male da Shooting to Art e adesso trova questo bellissimo successo Federico Bossa a ricordo a ricordo di un imprenditore che accanto agli attuali amministratori Concetto Mazzarella e Fabio Faraci credette e lavorò tanto per supportare la nascita della struttura di Contrada Spinagallo si corre il Memorial Francesco Faraci handicap principale A da 36.300 euro per cavalli di tre anni e oltre impegnati sui selettivi 2300 metri di pista grande l'appuntamento ricorre dall'anno 2000 l'anno scorso la vittoria nelle mani di Immortal Romance Immortal Romance quindi cortese siamo ai 350 metri dal traguardo con Immortal Romance che è in vantaggio ma non ci sta Old Fox non ci sta Desert to Fire quindi ancora cuore del grago siamo ai 200 metri dal traguardo con Immortal Romance che prende il via Immortal Romance ed è Immortal Romance che viene a risolvere il Gran Premio Francesco Faraci 2019 favorito al bersaglio Immortal Romance si conferma anche in questo handicap principale come è stato confezionato allora il convegno di sabato 5 dicembre dedicato al sulchi al trotto ce lo facciamo spiegare dal nostro segretario Corse che ha dovuto fare un bel po' di lavoro per confezionarlo a tutto punto soprattutto le due corse di gruppo 3 ma la difficoltà è stata confezionare anche corse di contorno ben riuscite e allora sentiamo Francesco Sir che è il nostro segretario Corse si arriva finalmente ad una delle giornate più attese del trotto come si è preparato e quali sono i colori e i sapori che vedremo in pista anche con persone che verranno appositamente per vincere il GP purtroppo volendo fare una una battuta non tanto bella a posto di odori e sapori col covid che gira essendo a porte chiuse insomma si è fatto quel che si è potuto purtroppo questi questi eventi queste giornate che per noi sono un evento straordinario correre a porte chiuse purtroppo è un grosso danno però nonostante tutto la gente si è mossa con non dico in massa però un un gran premio d'inverno con 12 partenti e un cittadino con solo 8 partenti però qualitativo per la presenza dei due allievi di goccia d'oro ti ti fanno un enorme piacere ti danno diciamo la conferma che hai lavorato bene nella preparazione e veramente io ho cercato di dare il massimo per cercare di invogliare le persone a costruire due corse diciamo di livello all'atto dei partenti dico che sono due corse ben riuscite quindi speriamo che tutto vada per il meglio e che ci sia grande spettacolo io spero sempre nel nel cronometro che possa magari crollare il record della pista che è di 1 11 e 2 se non verrà una corsa molto tattica città di Siracusa c'è questa possibilità scendiamo nel dettaglio delle competizioni dunque competizioni che partiranno le ore 13 e 15 e che avranno il punto maggiore di attenzione focalizzato sul premio città di Siracusa una delle due prime corse di gruppo 3 e sul GP d'inverno che scatterà alle 15 e 45 sesta corsa in programma partiamo dalla quarta competizione guardiamoci il campo per tanti vi ricordo di un premio città di Siracusa che corre e si corre dal 2000 prima si è corso sempre in agosto poi invece dal 2018 ospitato nel convegno centrale nel meeting centrale dedicato al trotto e al galoppo che festeggia appunto l'anniversario della nascita dell'ippica siracusana nel 2017 e 18 la vittoria di Tina Turner è stata una delle prime battute che ha appunto ha focalizzato su di sé l'attenzione e poi invece nel 2019 l'anno scorso è arrivato René Legalti che con Vesna si è aggiudicato il premio città di Siracusa andiamo a vedere il campo partenti di quest'anno dove appunto l'invito è riservato a soggetti di 4 anni andranno sul miglio sono l'uno di Zadig de Ronco che a Siracusa ha perso solo da Tina Turner che ha il numero 8 dello schieramento naturalmente sono in forma dovranno affrontare però quelli che sono gli ospiti a Razzi Bogo che ha raccolto tantissime prove soprattutto a un curriculum d'eccellenza diventa la base di questa competizione l'avversario è forse il compagno Vaprio mentre gli altri proveranno ad utilizzare la buona condizione attenzione anche a un altro ospite Vincent SM che anche lui ha militato anche nei gruppi 1 nel 2019 e quindi ha sicuramente un curriculum d'eccezione proviamo a sentire il nostro segretario Corsa Francesco Sirchia che ci presenta la Corsa il premio città di Siracusa e poi diamo la parola a Cintura che con il figlio Salvo è impegnato con acquatinta Fonte il città di Siracusa ha raccolto soltanto 8 cavalli a via probabilmente tanti si sono scoraggiati dal veder partente a Razzi Boco che in ogni caso blocca il pronostico il castrone di Alessandro Cocciadoro nel 2019 veramente ha fatto ha sostenuto delle prove in corsa straordinarie a dir poco quest'anno un poco i risultati si sono visti in tono più più pacato cavallo è stato fermo tutto in inverno è rientrato a maggio e comunque ha dimostrato di sapere andare forte la migliore alternativa è il compagno di allenamento Vaprio chi vincerà tra i due non è facile capirlo probabilmente Vaprio è un po' più fresco di Razzi Boco che reduce dal palio dei comuni in cui è arrivato quinto nella finale ma si è assorbito un chilometro all'esterno a media di 1,11 se Razzi non avrà non risentirà di questo sforzo potrebbe essere anche lui il vincitore anche perché andrà davanti tra i locali sicuramente la chance migliore nonostante la seconda fila ce l'ha Tina Turner c'è un altro ospite campano Vincent SM cavallo molto dotato ma di scontino è rientrato in sordina qualche giorno fa e sarà l'incognita della corsa Salvo sarà impegnato con acquatinta fonti in uno schieramento che vede ospiti eccellenti Sì abbiamo corso il gran premio con la cavalla perché secondo me se lo merita è una cavalla a parte l'ultima corsa che si è alleggerita un po' davanti ma dopo se togliamo quella prestazione la cavalla è sempre ben figurato qui a Siracusa siamo in casa e perché no non correre Bene ma tra gli ospiti chi teme? Ma Razzi Bocco è un cavallo che ha vinto a strumento gruppi molto più importanti gruppi 1 campionate europei insomma non sto qui ad elencare tutto quello che ha vinto secondo me il cavallo dopo si dovrebbe adattare bene sulla pista perché è un cavallo abbastanza facile per cui non dovrebbe avere problemi difficoltà il numero è buono L'avversario chi sarà? L'avversario di Chiria Razzi Bocco speriamo acquatinta Altrimenti? Altrimenti c'è Zadighi comunque sta correndo abbastanza bene Tinetanne altrettanto insomma secondo me Vaprio è un cavallo pure che ultimamente sta correndo abbastanza bene i due di Cocciadoro secondo me sono un pochettino più qualitativi rispetto agli altri Andiamo a guardare la sesta competizione il campo partente quindi della prima edizione del GP d'inverno abbinato peraltro alla seconda Tris nazionale 50.000 euro circa il Montepremi per 1600 metri con un gruppo 3 riservato a soggetti di 3 anni più giovani dunque molto aperta questa competizione non c'è un unico favorito possiamo guardare il campo partente aperto dal numero 1 di Bugea Pax le due ultime buone prestazioni confermano comunque che ha buona forma è una novità qui a Siracusa la forma locale si affida a Bipop che sicuramente rispetto a bandute gruppi e boradipoggio che chiudono col numero 12 e 13 risulta essere quello più accreditato a combattere gli ospiti esterni poi una linea che si presenta quella di Bon Jovi MMG che già si è incontrato più volte anche con altri ospiti provenienti da Italia l'ultima fa Bella Piazza anche lui è una buona novità insieme a Billy Idoljet che ha vinto lo sfollamento del derby e dato in progresso Breila De Casei piuttosto regolare bene all'ultima ancora Boltigure R parte forte anche se le ultime tre corse non raccoglie per quanto dovrebbe Bonston Lewis ha all'attivo due belle vittorie a Napoli Bolero Gar è un soggetto che è in linea con questi a buoni mezzi Boistecca non corre dichiarato non partente Bonneville Gifont è particolarmente stimata questa femmina di tre anni guidata da velotti ancora il numero 11 di Beowulf Play che ha buone prestazioni interrotte da una rottura in partenza e poi ci sono gli altri due locali Bantude Greppi e Boradipozio di cui abbiamo parlato giocano sulla regolarità andiamo a parlarne con Francesco Sirca che ci presenta proprio il GP d'inverno e ancora con Natale Cintura lui è impegnato sul sulchi di Bolero Garra una delle possibili sorprese Gran premio d'inverno gruppo 3 la prima edizione di questa neoclassica per l'ippodono del Mediterraneo 12 al via si è ritirato infatti dopo la dichiarazione dei partenti Bois Stecca è una corsa che praticamente non ha un favorito ben preciso anche se si punta il dito su Billy Idol Jet un cavallo che è in crescita fa secondo da Versa due settimane fa nello stabile è il vincitore dello sfollamento del derby e soprattutto è la scelta tra tanti e tanti soggetti di Alessandro Gocciadoro e quindi merita rispetto e comunque nonostante la buona posizione la forma in crescita non se la porta da casa la vittoria sono tanti i pretendenti guardando la prima fila Bongiovi MMG può far frottare la sua grande irregolarità Voltigero R è sembrato in regresso però è un cavallo che parte forte tra l'altro è stato in allenamento Alessandro Gocciadoro adesso è sotto il training Roberto Faticoni dovesse ritrovare i motivi migliori è un cavallo molto insidioso in seconda fila due soggetti su tutti Bonneville Gifont che è tra le migliori femmine della generazione cavalla che sa girare all'esterno il numero non dovrebbe farle paura ed è accompagnata dalle buone voci del team della natura tedesca Olga Lerert poi una menzione va anche a Bolero Gar un cavallo non semplice non so se la seconda fila potrebbe causargli qualche problema è un cavallo di grandi mezzi dall'allievo di Massimo Finetti che ha affidato il suo tre anni a Natale Cintura potrebbe essere la vera sorpresa della corsa i locali puntano tutti su Bipop Ferm che ha avuto in sorte un ottimo numero due si è presentato al meglio nella corsa di preparazione a questo gruppo tre vincendo da uno dodici e otto girando costantemente all'arco quindi la forma c'è avrà il tifo il tifo locale anche lui va inserito nella rosa dei possibili vincitori lei si sarà su Bolero Gar grandi mezzi potrebbe essere uno della sorpresa? ma io ho parlato con Finetti che mi ha chiamato di cui lui è molto fiducioso è un cavallo particolare però se riesce a evitare l'errore è un cavallo che non ha paura di questi io ho visto correre abbastanza bene a batteria del derby è insomma un cavallo che c'ha forza addosso per cui se evitare l'errore come ti dicevo prima secondo me se la gioca abbastanza bene anche qui la corsa è molto insidiosa perché ci sono parecchi cavalli da Bebop Fermi che si adatta bene sulla pista dal cavallo di Gocciadoro Billy Dolgetti che sembra un cavallo facile sa partire abbastanza svelto Bolticherre che è un cavallo che ha fatto sempre gruppi uno insomma una corsa apertissima Bonneville-Gifonte quella di Vellotti quella che sta stracorrendo sempre a partenza di fuori una bella corsa bella 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 partiamo cronologicamente adesso da quella che sarà la prima battuta a Siracusa del trotto di sabato 5 alle 13.15 dietro l'autostarter partiranno i cavalli di 4 anni sulla selettiva distanza dei 2200 metri e il premio Ortigio un monte di 7700 euro per 7 soggetti al via guardiamo il campo partenti piace la linea tracciata da Anja Rich e Amira F Anja viene da due belle vittorie benché l'ultima meno bene Amira può essere della partita piace anche la linea tracciata da Sisi Pax e da Artemisia Gar una Sisi che riduce da vittoria proprio il 16 di novembre sui 2200 metri regolare se non sbaglio in partenza potrebbe essere appunto una valida alternativa non si può escludere Aurea YSL che si adatta sui 2200 metri se non sbaglio appunto è un soggetto di qualità soffre di più un po' Argocam in autunno estente il podio Ardea Weiss questi i protagonisti quindi della prima a Siracusa andiamo alla seconda guardiamoci il campo partenti del premio Eureka una corsa difficile da pronosticare soprattutto perché sono giovanissimi sono i due anni su una condizionata la linea che seguiamo è quella dettata da Clara Risaia TRGF che vince qui a Siracusa bene l'ultima corsa peraltro tirandosi dietro anche il debutto con una bella seconda piazza di Carabella c'era anche Chris Daza e Clio che è ben appostata in primo con il numero 1 e potrebbe appunto migliorare anche perché ricordiamo vince l'esordio una Clio che aveva lasciato un buon ricordo paga l'ultima la compagnia Claudette Fonte che ha una buona linea anche con Chris Gross che a ottobre ha fatto bene positivo in carriera un po' meno Correo nelle ultime sembra appunto un po' in calo Carlotta Di Gaia rottura in partenza estenta ultimamente invece la novità di Chester che ha raccolto a Milano e a Roma e adesso può adattarsi anche sulla pista di Siracusa sentiamo Francesco Sir che ancora Natale cintura perché è impegnato c'è il figlio Salvo Junior con Clara Risaia TRGF ricca moneta per cavalli di due anni ci sarà anche un ospite Chester portacolori alla regina Orses cavallo che si presenta con un dischetto rurino di marcia ma che dovrà affrontare Clara Risaia TRGF che all'esordio sul tracciato siracusano si è resa autrice di ottima performance quindi tecnicamente è l'allieva del team cintura la cavalla da battere si guarda tanto a Carabela che dopo un'ottima prova di qualifica ha seguito proprio Clara Risaia TRGF nel suo debutto e che Gasparello Verde ha affidato ad Alessandro Gocciadoro poi diciamo che Chris Daza e Chris Cross sono altri pretendenti a una moneta ricca non tascurerei soprattutto per una piazza la ben appostata e promettente Clio Clara Risaia che peraltro vince subito dando buona impressione Sì una cavalla abbastanza qualitativa aveva già corso bene con il trainer Casillo nelle prime uscite è una corsa insomma abbastanza difficile cavalli molto qualitativi ci sono in questa corsa i due di Lo Verde che stanno correndo abbastanza bene Sceglierebbe fra i due Chris Cross secondo me è una calla buona di futuro dopo c'è un calla a me piace tantissimo ho visto correre anche fuori cestere di vellotti insomma è una corsa abbastanza insidiosa altro premio interessante è il premio teatro greco la terza corsa scatterà alle 14.20 2200 metri selettiva la distanza per cavalli impegnati sulla categoria D e C sono cavalli di 5 anni oltre 9 soggetti al via apre Zoom Rock che è abbastanza regolare con buoni riferimenti poi segue Tundastre con due vittorie che mostrano buona condizione Zanardi Grifo un ospite in forma Volo Rivalco OP benché in regresso con una rottura in partenza e un nono posto ha interrotto un ottobre che era molto più positivo Tatu a Siracusa è ritornato da due corsi ha fatto un quarto posto ed una vittoria Utopia Jet ama questa distanza buona la condizione ad ottobre vince pure poi c'è Zircovia Cis che vale questi e ha buona condizione Zippo B buone le categorie a Siracusa non raccoglie forse per quanto dovrebbe e quindi il numero 9 di Unisconsis Voll che è un ospite pronto con un buon curriculum questi sono i cavalli partecipanti per il premio teatro greco proviamo a chiedere a Francesco Sirchia e ancora Natale Cintura come si muoveranno su questa competizione una bellissima categoria CD sul doppio chilometro sarà questa terza corsa in programma in questa bellissima giornata di corse pronostico davvero incerto forse sul doppio chilometro potremmo dare fiducia a Autopia Jet cavalla che sa all'occorrenza anche girare di fuori e che sicuramente ama la distanza del doppio chilometro però partendo dall'alto del campo partenti una chance va data alla regolare e veloce Zoom Rock che di rimessa può far bene poi c'è l'ospite Zanardi Griff cavallo che sta attraversando un buon periodo di forma non trascurerei poi in seconda fila Zippo B cavallo che prima di arrivare a Siracusa ha frequentato buone categorie e Wisconsin Vol cavallo della Indal quindi della coalizione legati Goccia d'Oro che si hanno deciso di spostare di venire a correre sicuramente l'hanno fatta a ragione veduta l'utopia la guida mio figlio lei sa districarsi abbastanza bene sul doppio chilometro una calla che so costruire anche all'esterno se riesce a evitare l'errore secondo me è una calla che nei primi dovrebbe lottare per la vittoria la corsa è abbastanza qualitativa ci sono calli come Zippo B Zoom Rock insomma è una corsa apertissima a tanti cavalli non vedo un cavallo diciamo superiore cavalli che se la giocano tutti dipende dal svolgimento di corsa dovessimo scegliere tre nomi tre nomi numero uno Zoom Rock la corsa è entrata la grande utopia e Zippo B quinta competizione a intervallo proprio fra le due corse più attese ai gruppi tre ci sarà il premio Archimede una corsa incerta una condizionata che però dà tantissime chance a Gasparello Verde presenta col suo trainer ben sei soggetti su otto che vi partecipano proprio soggetti alternativi sono Bionda De Gleris e Bohemia Chuck e Sam che sono una valida alternativa a invece i più titolati Bata De Cola e Besame e Mucio Font questo risulta proprio la base della competizione Beautiful Girl Park a Siracusa da tre corse ha mostrato anche di saper vincere ma questo sembra un contesto molto più impegnativo Bellissima Bread poi rientra dopo una trasferta ha subito messo in scena un primo e un terzo posto Blue Train è un soggetto che comunque ha dimostrato anche se non è informissima poi appunto vi dicevo Bionda De Gleris e Bohemia Chuck e Sam che peraltro hanno fatto un'ultima bellissima corsa in linea Baby Blue è un'ottima alternativa anche perché è un soggetto che è riuscito anche a vincere Besame Muccio che nel periodo estivo è stato vinto proprio sia da questo numero 6 sia dal Bionda De Gleris ma erano tempi preestivi poi lui è andato più avanti sicuramente nella forma Bata De Cola ha dimostrato tantissimo e l'otto resta alla base sentiamo Francesco Sirche naturalmente e ancora Natale Cintura che ci presenta Salvo che dovrà appunto guidare Bionda De Gleris Ancora una ricca moneta stavolta i protagonisti saranno i cavalli di tre anni anche qui pronostico incerto e comunque il team Lo Verde ne schiera 6 e se ne mancherà il successo sarà veramente da diciamo da scrivere sicuramente Bata De Cola e Besame Muccio Fondo tra i 6 soggetti schierati sono quelli che a mio parere hanno le migliori chance Bata De Cola non parte velocissima e col 7 può avere difficoltà Besame Muccio Fondo ha una suite di risultati impressionanti ed è un cavallo che secondo me può crescere ancora però l'insidia potrebbe essere Bohemia Chak S.M che qui a Siracusa ha steccato solo una volta l'ultima perde da Bionda De Gleris ma ha girato praticamente a causa delle condizioni pesanti della pista per 1200 metri proprio in quarta e quinta corsie perdendo proprio dalla cavalla di cintura Bohemia ha già battuto Bata De Cola e quindi si presenta come uno scomodo terzo incomodo tra gli altri chance di piazza per Brutrain secondo me è bellissima Bride per la loro regolarità e per i mezzi riguardanti Brutrain che è un periodo di forma un po' opaco però sembra essere annunciato in progresso è una corsa bellissima anche questa Francesco è stato bravissimo il nostro handicap per confezionare questo convegno con cavalli buoni con pochi soldi lui ci sa fare ha messo un piede una bella anche sembra un mini gran premio dei tre anni questa a parte che già ne abbiamo un altro insomma è una corsa abbastanza qualitativa ripeto come prima la nostra l'altro giorno ha vinto la grande l'avevamo presa da 4-5 giorni per cui i meriti vanno all'allenatore Messineo che l'aveva prima non abbiamo fatto niente abbiamo solo messo il finemente e andato in pista speriamo che ripeta la prestazione l'altro giorno perché l'altro giorno secondo me ha fatto una super prestazione con quella pista e secondo me abbiamo se riesce ad andare in corda a buone chance la cavallo la griniera bionda di De Gleris insieme a chi? ma c'è Bata de Gola c'è Brutrain c'è Bellissima Brita ci sono parecchi cavalli io questo di Minopoli non conosco bene però insomma è una bella corsa l'ultima competizione è il campionato del Mediterraneo in verità ospite qui a Siracusa ogni anno è stata la WIM l'Unione Ippica del Mediterraneo che riunisce i paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo e che si confrontano sulle piste delle varie nazioni con un preciso calendario sia per i campionati riservati a guidatori sia per quelli riservati ai fantini quest'anno purtroppo faranno soltanto un consiglio online per scambiarsi un confronto interculturale oltre che sportivo e agonistico hanno fatto un'unica tappa a Cagni e Surmer quindi non ci sarà la finale ospitata ogni anno a Siracusa il campionato del Mediterraneo infatti sarà guidato normalmente dai professionisti dai guidatori ed è riservato a soggetti di 5 anni oltre sarà sul miglio la prima corsa Vidal Tav scusatemi il primo numero è Vidal Tav cavallo di categoria E non brillantissimo nel periodo che comunque ci sta in questo contesto unico P che deve riscattare l'ultimo errore che interrompe una buona regolarità Union Wise AS in forma ha ottimi riferimenti U6000 non concretizza da settembre Zcash e Xenofont sono valide alternative piuttosto regolare forse Xenofont è più regolare di Zcash che invece ha alternato qualche errorino in più Zonk di Giri Falco e Vacanza Jet però sono la base di questa competizione scendono di categorie e sono particolarmente chiacchierati e stimati Stenta Zaira Truppo e ancora Vaitor è capace di lottare con questi se vediamo il proprio curriculum ha delle competizioni dove comunque sale sul podio con parte di questa compagnia allora sentiamo su questa corsa Natale Cintura è impegnato con Vacanza Jet Vacanza Jet l'ultima a dir la verità non mi è piaciuta parecchio abbiamo sistemato qualche cosa il numero è buono perché siamo alla corda speriamo di non perdere troppo terreno in partenza però anche questa è una corsa abbastanza insidiosa sono tutte le corse insidiosi non vedo cavalli favoriti anche qui ci sono 4-5 cavalli che se la giocano per la vittoria da Pilar al Tab uno è un Waisa S che sta correndo abbastanza bene Zonchi di Girifalco che scende un perino di categoria la stessa quella nostra insomma ci sono 4-5 cavalli Vidal Tab è un cavallo quando in giornata si accastiga anche quelli buoni buoni insomma è una corsa apertissima una corsa bella non mi resta che darvi l'appuntamento dunque una delle prime due giornate che festeggiano l'ippodromo del Mediterraneo il suo 25esimo anniversario soprattutto relativo al Trotto sabato 5 dicembre dove il premio città di Siracusa invito gruppo 3 e ancora il GP d'inverno abbinato ad una seconda attrice nazionale invito di gruppo 3 saranno sicuramente le ciliegine sulla torta ben confezionate montepremi interessanti 50.000 euro ciascuno circa quindi sicuramente una bella giornata di Trotto peccato è il pubblico ma sicuramente non mancava di dover festeggiare questo la nascita dell'ippodromo di Siracusa la nascita dell'ippica siracusana e siciliana che è vissuta veramente con grande passione arrivederci grazie a tutti